Già partita la vendemmia in Abruzzo a causa delle condizioni climatiche e della siccità che hanno interessato il nostro territorio. Qualità buona dei vini ma calo di produzione. Rocco Pasetti, enologo e viticoltore, ci conduce nei campi di Colle Corvino, nel Pescarese. La vite, come tutte le piante, in caso di stress idrico, dove non c'è acqua, va in autoprotezione. Gli stomi delle foglie si chiudono e quindi la pianta non vegeta o quantomeno distribuisce quella piccola disponibilità di acqua che c'è tra le foglie e il frutto. Questi fattori stanno portando gli enologi, i tecnici, i viticoltori a considerare una vendemmia anticipata, come in effetti sta accadendo. Di due settimane, se non di più, pecorino, trebbiano o montepulciano? L'anticipo della raccolta delle uve riguarderà tutte le maggiori varietà prodotte in Abruzzo, perché il fenomeno interessa tutte le varietà, a prescindere essendo questo un fenomeno meteorologico. Che no, certamente non ci aspettevamo dopo un'annata del 2023, dove abbiamo avuto e subito dei danni per eccesso di acqua. Quest'anno non si tratta di danni, ma comunque di riduzione della produzione per mancanza di acqua. La natura è un po' squilibrata, forse abbiamo anche qualche responsabilità noi, dobbiamo cominciare a riflettere. Riduzione di produzione di quanto? Ma la riduzione, diciamo che l'emissione floreale dei frutti sulle piante è stata regolare. Quello che manca è il peso del singolo grappolo, cioè manca quella frazione di acqua dove si solubilizzano tutte le sostanze poi nobili che vanno dopo la fermentazione a qualificare un vino. La minore quantità di acqua determina un minor peso del singolo grappolo, che generalmente noi abbiamo già stimato all'incirca tra il meno 20 e il meno 40%, ed una maggiore concentrazione di che cosa? Innanzitutto di zuccheri e poi anche degli altri componenti essenziali dell'uva, che sono gli acidi, che sono gli estratti. È necessario quindi anticipare la vendemmia per fare cosa? Per evitare l'eccesso di alcuni componenti, in particolar modo lo zucchero, che porterebbe a dei vini eccessivamente alcolici e quindi poco interessanti. Ma la qualità? La qualità è da controllare, ma i presupposti per avere dei vini di qualità ci sono tutti, per avere un'annata non eccezionale, perché dalle annate con fruttificazioni difficoltose non si hanno mai annate eccezionali come produzione con qualità del vino. Sarà del buon vino, grosse concentrazioni aromatiche in termini di fruttuosità, in termini di aromi, probabilmente un po' più squilibrati tra alcol e acidità. Però ecco, la tecnologia riesce, la normale tecnologia e le dotazioni tecnologiche delle cantine abruzzesi consentono anche di moderare l'effetto di questo squilibrio. Grazie. Grazie. Grazie.